Il secondo comandamento Il secondo comandamento, non pronuncerai in vani il nome del Signore tuo Dio, a differenza del primo con cui Dio reclama tutto per sé la sua creatura, affinché non si prosti davanti ad altri dèi, vieta che venga pronunziato il santo nome di Dio con leggerezza, cioè senza quella intima e pura consapevolezza del cuore e della mente, che Dio l'inaccessibile, benché si faccia prossimo di ogni sua creatura. Di qui la prescrizione, non pronunciare il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non ritiene innocente chi pronuncia il suo nome in vano. Nella cultura antica e in quella semitica in particolare, pronunciare il nome significava ferrare e possedere ciò che si nominava. E questo per una comune convinzione secondo la quale la conoscenza del nome della cosa avrebbe dato anche il diritto di dominarla e di farne l'uso voluto. Fuori dell'ambiente biblico esistevano dei popoli che conoscevano i nomi dei loro dei, per i quali cosa pensavano la divinità e dipendesse dagli stessi uomini. Ne è molto chiaro la situazione dell'Egitto, il popolo egiziano era convinto che il loro Dio adesse seminati tanti nomi su di sé, per cui il vero nome loro non lo conoscevano. Ora ci interroghiamo, se il nome è la persona stessa e conoscere il nome significa incontrare la persona, oseremo chiamare per nome Dio? Sì, purché lo si faccia con la retta intenzione di lodarlo e amarlo, perché il nostro Dio non è come gli altri dèi. Gli idoli delle genti sono argento e oro, opere delle mani dell'uomo, hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, dalla gola non emettono suoni. Il nostro Dio è padre ricco di amore, il Signore si ricorda di noi, ci benedice, il Signore benedice quelli che lo temono, benedice piccoli e grandi. È un Dio vicino al suo popolo che si può chiamare per nome. Qual grande nazione ha la divinità così vicina a sé, come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo. Poi, in Gesù Cristo, Dio si rivelerà come il Salvatore, il Signore, il Redentore, titoli che esprimono la realtà più alta e più personale del Figlio di Dio, fatto uomo, morto e risorto per noi. Per i cristiani, invocare il nome di Gesù significa proclamare di ricevere da Lui l'esistenza e la salvezza. Difatti, non vi è un altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale stabilite che possiamo essere salvati. Nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra e ogni lingua proclame che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. La grandezza e la fortezza di Dio si manifesta non tanto nella creazione quanto nella sua bontà di Padre che vuole ad ogni costa che ogni uomo sia autentico suo figlio. Nel contempo, la risposta data da Gesù agli apostoli che chiedono di insegnare loro a pregare conferma quanto detto. Gesù infatti esorta a non pregare con parole inutilmente perché tra Padre e figlio non è necessario né opportuno il formalismo di belle frasi ma piuttosto la manifestazione di intimità e di affetto. Voi dunque pregate così. Padre nostro, sia santificato il tuo nome. Gesù ci insegna la sua preghiera con la quale vuole che Dio sia amato, rispettato, glorificato, riconosciuto che il suo nome è onnipotente, risplenta fino ai confini del mondo e tutti gli rendono gloria. Molteplici sono i modi con cui lodare il nome del Signore. Possiamo pensare principalmente alla lode con la nostra vita, condizione per una vera lode è la purificazione del cuore da ogni idolatria, scavitù delle passioni, attaccamento ai beni della terra, servilismo politico. Pensando al profeta Ezechiele che ci riferisce che Dio manifesta alla sua santità quanto salva e perdona. Egli traccia il percorso che dobbiamo seguire. Esso va dalla purificazione del peccato alla liberazione di ogni idolatria, cult di se stesso, servilismo politico, scavitù della passione. Questo è il senso della parola del profeta. Santificherò il mio nome, Grante, io vi purificerò da tutte le vostre suzzure e da tutti i vostri idoli.